Signore e signori, a breve, una bellissima crozza, questa volta la crozza bianca, al suo interno, tra i distalachimini, ma in particolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo alla crozza bianca. La crozza bianca è il colore della sua roccia. Ciao a tutti. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale, metti un like e un commento qui sotto. Ciao al prossimo video.